Matteo Conti Con il numero 13 Luca Rossettini Con il numero 14 Alessandro Gatti Con il numero 10 Gaetano Tadostino Con il numero 70 Daniele Mattini Con il numero 23 Franco Brienza Con il numero 22 Mattia Testro E con il numero 11 Emanuele Calagno A disposizione Falelli, Besoli, Belmonti, Angelo, Bolsoni, Reginaldo, Ladrondo Al direttore della Rambur, Mister Giuseppe Sovrino Grazie